Buongiorno, questa è la mia patata, non ho la mia patata, lasciami, lasciami, lasciami Ma mi metto un attimo a fare colazione, sono già le 7.20, devo andare via e devo andare a pulire a casa di mio zio A me sa che mi sono fatta veramente tanto latte E volevo farmi vicino un po' di pancarrè, questo qua che abbiamo capito ieri gratis, no avete visto? Questo qua con semi e noci, volevo farlo un po' tostato e metterci sopra, ma ho un po' di miele e un po' di marmellata Però è nuovo, questo vabbè non lo voglio aprire e mi mangio un po' di queste ciambelline che abbiamo preso sempre ieri da Eurospin E mi mangio un po' di questa, capito? Mamma pure se n'è andata, che se n'è andata a lavorare Ecco qua, e mo ci mettiamo a fare con la ziancina Devo dire che sto ciambellina è buona, non c'è male Solo che mi sono fatta troppo latte, ne volevo fare giusto un po' Io proprio con l'infidelito qua, così sto bella comoda comoda per pulire Ecco, ma metto un attimo a fare prima la lavatrice Tutte queste cose, i centri e poi dopo le tende E poi oggi ho voluto pure una pulita Qua la lavatrice, la laschetta Di qua ho messo tutte le tende Allora, ok Dopo gli diamo una pulita perché comunque è un pochino sporcoccia Allora, facciamo 40 gradi, sì, va bene Come si mette questa qua? Stira meno Ok Come si avvia? Non mi ricordo No, così ho spento Maronna, raga Qua? Forse sì Sì, ok Vedi? La laschetta bisogna pulirla Allora, i detersivi dovrebbero stare qui Ok Ho finito l'ammorbidente Aveva un ammorbidente desori d'oriente bellissimo Io mi sono, io mi sono dimenticata di prendere il treppiedi Ma va bene così Comunque, aveva un ammorbidente desori d'oriente Ma va bene, fa niente Allora, un tappeto di detersivo va bene Tanto prendo solamente dei cintri Allora, ora mi inizio a pulire un attimo il bagno A me piace sempre iniziare dal bagno Mi prendo già qua la roba Ok Ope là Vediamoci Un po' qui chiudo Questo stanzino Così glieli stendo l'odore E se si asciugano presto Io li voglio anche stirare Ma vediamo un po' Andiamo Allora che bello il colore no c'è con la cover no vabbè è uscito con la cover fantastico anche la cover bellissimo c'è pazzesco anche la cover wow wow ci abbiamo i pulsantini qua cerchiamo italiano ah no italiano città di Vaticano no chiamo Italia scusami io sto in Italia italiano Italia inizia ciao ok faccio un attimo l'aggiornamento qua l'impostazione iniziale eccolo qua finalmente l'ho fatto perfetto perfetto aspetta allora mo comunque devo cambiare poi lo sfondo e tutto però mi piace troppo dietro vi voglio far vedere anche un attimo la qualità aspetta della fotocamera allora qui c'è Mia oh mo vedi si riesce a vedere bene non si vede male aspetta eh vedi a parte la macchia di caffè la bussa che è caduta adesso mia vediamo oh calina amole aspetta questo so io ma che è si è tolto calina e poi vabbè ci stanno varie cose l'azienda come appunto potete leggere anche qui è Ocitel eccola qua poi vabbè vi lascio qua sotto tutte le informazioni e il link quindi grazie all'azienda e raga quando si fanno le pubblicità nessuno è obbligato ad acquistare a me mandano questi omaggi questi prodotti se a me interessano lo sapete ve l'ho detto già li prendo o altrimenti no quindi questa è una cosa che mi interessa tantissimo perché ve l'ho detto tante volte che parecchie volte non registro perché avendo un telefono o ascolto a me piace ascoltare le cose quando faccio le pulizie per esempio quindi o ascolto faccio video e quindi grazie all'azienda Ocitel adesso posso fare qualche video magari quando faccio qualche pulizia vi posso far vedere qualcosina in più e poi con lui invece ascoltare tutto ciò che voglio e ho desiderio di ascoltare quindi veramente grazie e vi ripeto vi lascio qua sotto codice sconto link e insomma tutte le informazioni dell'azienda e soprattutto di lui ma guardate a parte che c'è c'è pure la cover quindi fantastico abbiamo risparmiato anche 3 euro questa è la trasparente un 3 euro dei cinesi si trova però l'abbiamo risparmiata e poi questo effetto marmorizzato il mio è il verde bellissimo iscriviti al canale 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 con lo sgrassatore o altrimenti pazienza mi sta la luce del sole così dopo vediamo se riesco a togliere questo giallino mi sta la luce del sole la faccio con lo chant eclair e vediamo insomma facciamo la prova allora lo metto qua come è carino, mi piace tanto allora chant eclair è qui, nel frattempo prima ho steso già tutti i centri e andiamo a spruzzare utilizzo questo qua, l'originale che è migliore e ora lascio agire un po' ok allora ora voglio provare a lavare questi non so se si vede vabbè, non tanto comunque sono gialli mentre dietro vedi sono leggermente meglio questo è dietro e questo è il davanti e siccome con lo sgrassatore non si leva ci metto dentro giusto un goccino di acido muriatico e vediamo così se si toglie tu mi hai 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 day oh tu mi hai tu mi hai tu mi hai tu mi hai oh tu mi hai oh oh princess or mine what have I done to deserve a world to me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti